Grazie a tutti non si imparano 190? 176 alla pena consegna un 40 consegna un 15 un 15 un 15 un 15 se no mettiamo un 40 60 60 240 e quello che è uscito 2,40 e quello che è uscito me lo devono pagare tutto perchè ancora avevo un po' più di 10 10 per io spero che la faccia mi passi non 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 ma ho